Si svolgerà domenica 24 aprile al Palacossiga di Gela a partire dalle 9 del mattino il VII Congresso Regionale della Divina Misericordia patrocinato dal Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione con il tema dell'anno giubilare Siate Misericordiosi come il Padre. L'evento quest'anno, ha detto Don Pasqualino Didi, organizzatore dei congressi e missionario della misericordia, si inserisce felicemente nel contesto del Giubileo della Misericordia che Papa Francesco ha proposto a tutta la Chiesa come itinerario di autentico rinnovamento interiore e come speciale attualizzazione sul piano pastorale del tratto specifico dell'amore misericordioso di Dio verso ogni sua creatura. La scelta della bella città di Gela con le sue risorse, anche se è considerata da tanti periferia dell'Italia, non solo per la sua collocazione geografica, diventa un giorno all'anno polo di misericordia e di rigenerazione. Misericordia vuol dire speranza, riscatto, dignità, avere un cuore spaccato, cioè compassionevole e non indurito, quel cuore che diventa abitazione di chi soffre, di chi non ha lavoro, dell'immigrato, di chi ha perso la speranza. Il Santo Padre Francesco ha fatto giungere ai partecipanti il suo messaggio, concedendo a tutti i partecipanti anche l'indulgenza plenaria, secondo le solite condizioni. L'annuale convocazione unica in Italia è diventato un momento di formazione e di comunione fra i vari movimenti, gruppi di preghiera e singoli fedeli presenti in Sicilia e oltre che si ispirano al messaggio biblico della misericordia, ripresentato da Santa Faustina Kowalska, promosso da San Giovanni Paolo II e che risuona costantemente nel Magistero di Papa Francesco. Il congresso è stato organizzato dalla Diocesi di Piazza Armerina, dal Comitato Mondiale dei Congressi della Divina Misericordia, dall'Accademia Internazionale della Misericordia, dal Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia e dalla Piccola Casa della Misericordia che si occupa di oltre 700 famiglie disagiate del territorio nisseno.